Allora, vuoi iniziare che ti metto il bronzer? Sì, mettimi il bronzer Aspetta Poi mettimi il bronzer, il ferro, il raro Il... Il lucidalabbra? L'oro No, la lucidalabbra no C'è la belle lucidate Tanto dopo ti devo mettere il rossetto Ho messo quelle delle scarpe di lucidalabbra O ti metto... No, o ti metto i brillantini Ma già brillo Vabbè, ti metto il bronzer Guarda quanto cazzo brillo Mamma mia, ragazzi Ciao a tutti ragazzi, benvenuti andate qui Sono i suoi video di insieme a mia sorella Ciao a tutti Quest'oggi ragazzi Purtroppo No, non purtroppo Meno male No, no, purtroppo No, meno male Mia sorella si doveva vendicare per tutti i prank No, non per tutti Per alcuni Vabbè, per alcuni prank che io ho fatto Per due Ma questi non... I primi due No, ma questo non vuol dire che non te ne farò altri Vedrete Vedrete Anche perché nelle prossime volte sarò io a vindicarmi Detto questo, vi spiego un po' cosa andremo a fare Mi farà delle domande riguardanti lei A me E se io saprò rispondere Non mi truccherai Sì Se invece non saprò rispondere o sbaglierò O sbaglierò Mi truccherai Sì La faccia No, guarda, cosa, la mano Noi No, niente La faccia La faccia, la faccia, la faccia La faccia Allora Io direi di condividere ragazzi Perché se volete La mia versione Perché tu mi trucchi No Cioè Che io Mi vindicherò Su questo video No, facciamo un prank No Condividete ragazzi Condividete Poi la vedete Condividete Poi la vedete Allora Io direi di partire Mamma mia ragazza Quando sono Fashion Vai Allora Partiamo con la prima domanda Che sarà Veramente Una cavolata Perché io Le so Rispondere tutte Quindi non mi truccherai Manco una volta Il mio colore preferito Sono tanti Tranne alcuni No Allora È un altro colore preferito No, aspetta Sono tanti i miei colori preferiti Però ce n'è uno Che amo follemente Che te l'ho già detto Il nero No L'azzurro Ma ogni giorno Che ha messo cacchio di coso No Io ho detto Allora Io ho detto Che il nero Era uno dei miei colori preferiti Ma il mio colore preferito È sempre stato L'azzurro Siamo con la cipria Che cazzo è la cipria Un nome La cipria È un po' rotta Però vabbè Basta che funge sulla mia faccia Poi Bisogna mettere per tutta la faccia Raga Il mio fratello Odio Che no Perché ragazzi Voglio fare il suo piso No ma che cazzo Faccio più di mano Ragazzi Secondo me Lei non è capace Raga No no Ti mettimi sotto nei commenti Se lei è capace Oppure no Guarda quanto è bello Ma non si vede Non è certo Se me lo metti qua su così Facci video Hai visto che hai cambiato Un po' il colore Di un cernino È un tanto più pallido Si è brutto Adesso basta Adesso non ci vedo Già una prima mazza Chissà la fine del video Ok La prima tredia Fatta Seconda domanda Allora Io Che nome In realtà Vorrei avere Io in realtà Che nome vorrei avere Al posto di Valentina L'ho sempre detto Sempre Alessia No Valeria L'ho sparata a casa Valeria L'ho sparata Valeria Non lo sapevo Valeria In realtà il primo nome Mi è arrivato Vabbè Allora Dai ragazzi Però non puoi Cioè Come fai a farmi Queste domande Dai Allora Vuoi iniziare Che ti metto il bronzer Sì Mettimi il bronzer Mettimi il bronzer Mettimi il bronzer Il ferro Il raro Il Il lucidalabbra L'oro No La lucidalabbra no C'è la bella lucidata Tanto dopo Tanto dopo Ti devo mettere il rossetto Ho messo quelle delle scarpe Di lucidalabbra O Ti metto No O ti metto i brillantini Ma già brillo Vabbè Ti metto il bronzer Vabbè quanto cazzo brillo Mamma mia ragazzi Ce la fai ad aprirla Sì Ma cos'è quella roba Sembra a fango Quando giocavo io Da piccolina A Peppa Pig Fermo Fai Il pesciolino Preferisco l'inverno O l'estate Allora L'estate L'estate non ti piace Perché studi Io dico l'inverno No Dai ma ma tu Dai ma tu Dai stai che è venuta a casa Non è piro Non è piro Non è piro Ma che cavolo dici Dai ragazzi Ti metto Tutte cose Su tre domande Due Ne ho detto perché Vale truccarmi No Dai vai Ti metto il blush Che cazzo è il blush Cos'è il blush Il blush è quello I giochi Ma chi è Pfff Mamma mia Ma quanto cazzo Puzzano si cose Sono trucchi E che ci metto dentro Il letame No Infatti Metti dentro il pennello Senti Mmm Beh Preferisco mare O piscina Ma che cazzo Ma io domande Ti piace Ma Aspetta Aspetta un attimo Prima di dirlo Io ho un motivo Perché questa cosa Non mi piace Perché ho un motivo Un motivo Allora Un motivo valido Allora Io dico che La piscina ti piace Sì Ok Il mare Il mare Anche Sì In una piscina Ok Visto Ragazzi Con lei Bisogna tutto capire No Perché al mare Una volta Perché io tipo Due anni fa Sono andata al mare Ero sul materassino In mezzo al mare E so Per affogare Perché te Che non ci so Io Ti sono Ti partavo Ti lascia Lì dentro Ti faceva Adormentare Sul materassino Muori Muori Detto questo Per fortuna Quarta cosa Non l'ho indovinata E non mi deve truccare Passiamo subito alla quinta Fammi la quinta domanda Preferisco Pantaloncini o gonna Pantaloncini o gonna Pantaloncini Ma dimmi di nuovo Perché la gonna Non mi è mai messa Eh io lo sto Mi piace anche un po' Con la gonna Però Perché altre Metto sempre Passiamo alla Mi piace Alla sesta Domanda Siamo a metà No Quante domande sono? Scherzo Prossima domanda Siamo a metà Vai Allora Preferisco Tipo in estate Mettermi Cioè il completo Cioè nel senso Maglietta Staccato Pantaloncino O tipo Un vestito Tutto staccato Ma non col pantaloncino Anche Cioè un vestito Io dico Il vestito Intero Sì Allora Allora Ma ci sono tutti i suoi problemi No hai sbagliato Dai Perché Allora Ti do la motivazione Sentiamo Allora Perché Sì a me i vestiti piacciono Però mi piacciono più Le maglietta E i pantaloncini Perché io non sopporto I vestiti I vestitini Perché poi Quando cammini Ti danno fastidio Passiamo A toccarsi All'ombretto All'ombretto All'ombrello L'ombretto Ah che è Oh però Hai gli stessi Quello dell'ombrello Guarda là Alla rosa Chiudi l'occhio Ma io Chiudi l'occhio Questo dove devi metterlo Nell'occhio Chiudi l'occhio No nell'occhio Ah nell'occhio Allora Comunque ragazzi Cioè Chi è che non mi vuole prendere A me Nessuna Tu che stai guardando Il video Ma quanto sono bella Ciao Vai vai Passa la settima domanda Dai Tu Che sono bello carico Carica Sono carica Preferisco Una casa Da un piano Cioè nel senso Da un piano Sì sì Ho capito Non è un palazzo O una casa Da due piani Allora Io innanzitutto Ti metterai in giardino Senza piani Mai Ok Senza piani Però Io direi Su due piani No Mi sta facendo un indiano Mi sta facendo Una balena Un indiano Mi fatti vedere Raga guardate Che bello Sono setto Dai Mezzo Mezzo Preferisci Da tipo Un lato O un lato Mezzo Dai Ok Dai una parte Dai Ok Che è sta cosa È il rossetto Rosso È ketchup Ah no Non è ketchup Allora La domanda Preferisco Casa con giardino O senza Questo è facile Con Giusto Preferisco Una casa Dove ci sono Gli alberi Intorno O ci è tipo Una pianura 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 No Con gli alberi Se no Cimo Da oggi Casa No C'è una marea Di alberi Se no Già dicevo Andatevi a tagliare Ma perché Mi devi tagliare E devo continuare Il rossetto Mancano quattro domande Io Dio Tipo Il letto Cioè io Quando Ma anche non preferisco Quei cosa No Quando Io Dormo Cioè da sola Nel letto Preferisco Il letto Grande Come tipo Come quel Cioè come il letto A due piazze A due piazze O il letto Singolo Questo ti faccio fare Allora Io Dico Letto Due piazze Letto Singolo È vero Che dormo Sempre Stata Aranchiata Da tutte Le parti Però Mi piace più Il letto Singolo Ma che se lo scopi Nel gesto Oh Lo leggi Mascara No Quello Scopino Del gesto Mascara Long Che ti Ampi No Devi aprirle No Oh porca E di giù E non Io Esco Se no Te ti Continui a muovere Dai Dai Non ho due Poi Dice A me Ti rischio Abitare In una cosa Con Qualche quadro O senza Quadri Con No Senza Io Odio quadri Perché mi danno Un botto Postiglio Dai Muoviti Fammi Su trucco Dai Fammi Quello Che Fa Che ti muovi Su Dai E ora Devo mettere Si metti quello che vuoi Si metti L'illuminante Si Illuminare Si Vai mamma Mi arriva proprio Una Tu c'è qua Vai Illuminare Però pochi Non tanti Che fanno Con la maglietta E' No 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 Dai 2 mila In mezzo Dai Però Te lo devo Mettere Su quattro Parti Della faccia anche l'ha detto poco eh però madonna tutti in giro scusa simone scusami chiudi l'occhio? no 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 però te lo devo mettere sull'occhio vai sull'occhio 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 no 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 guarda sull'occhio no vabbè perchè ti ho detto una domanda io dai grandi vorrei aver detto tu oggi ti puoi ingannare questa cosa io so che hai sempre detto una cosa però in realtà magari quella cosa può essere anche questa no non le voglio avere ma ce la fai? ve lo giuro che non è si vai c'è la sensi tu madonna non fare non fare simboli no no a me c'è la punta questa cosa no ma la liner no no questo si toglie questo si toglie subito e lei poi sta cagata è una liner fermo mamma mia come puzza cos'è carbone sta roba allora sei pronto? piena di grazia fammi vedere come sono belle in fashion chiudi l'occhio chiudi l'occhio dai vediamo vai mamma mia ma quando c'è bello il video può concludersi qui aspetta toglieti la faccia può concludersi qui per favore condividete i canali sui vostri amici lasciate un bel like mettete la cappellina condividete i canali sui vostri amici ragazzi mi raccomando io adesso vado subito in bagno a togliermi sta cosa sembra non so sembra un bagliaccio una mucca un clown un clown sembra un po' tutto un pokemon quindi ragazzi io direi che ci vediamo nel prossimo video spero che questo video che ha voluto fare mia sorella vi sia piaciuto a me per niente però l'ho fatto solamente per voi perchè me l'avete chiesto quindi vi volevo accontentare e l'ho fatto per voi ragazzi io vi saluto vada ragazzi